E' calato il lessipario sui 37esimi giochi nazionali estivi di Special Olympics, i giochi della rinascita dopo i due anni di stop causato dalla pandemia, ad invadere letteralmente Torino una colorata atmosfera di festa e sport che ha segnato l'inizio di un percorso che porterà il capoluogo piemontese a ospitare anche i giochi mondiali invernali nel 2025. Tutto questo grazie all'entusiasmo degli oltre 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive partecipanti e di tutto il movimento approdato in città per la manifestazione, comprensivo di 1.300 volontari, 420 delegati, 520 tecnici e oltre 1.400 familiari. Al Palavela, sede del villaggio olimpico, è andata in scena la cerimonia di chiusura a segnare simbolicamente il passaggio di consegne tra Torino e la prossima sede dei giochi, con la consegna della bandiera di Special Olympics nelle mani del vicepresidente nazionale Alessandro Palazzotti, accompagnato dal direttore regionale Charlie Cremonte. Voglio ringraziare, ha commentato Palazzotti, la regione, la città di Torino, le autorità e tutte le istituzioni che hanno permesso la realizzazione di questi giochi. Insieme a loro, un grandissimo ringraziamento va a tutti i volontari che ci hanno accompagnato in questo fantastico viaggio e contribuito ad allestire gli impianti, ovviamente anche al comitato organizzatore nazionale e locale per aver realizzato la manifestazione in condizioni non semplici. Il ringraziamento più grande va però ai nostri atleti, stupendi come sempre, e ai familiari che in questi giorni ci hanno mandato tantissimi messaggi di complimenti che ci hanno sempre sostenuto in un periodo dove ci siamo impegnati tantissimo. A rovinare parzialmente la festa una piccola ma brutta notizia che ha sconvolto il mondo di Special Olympics. L'associazione polisportiva disabili Don Carlo Gnocchi di Massa Carrara nel corso della trasferta torinese è stata infatti vittima di un furto con gravi danni non solo economici ma anche morali. Come spiegato dai loro rappresentanti, alcuni ladri hanno forzato i bagagliai dei due forgoni, decorati con il simbolo della società e con le bandiere di Special, utilizzati per raggiungere il centro di Torino, con l'obiettivo di fare un giro turistico una volta terminate le gare. Purtroppo sono stati rubati non solo i trolley con gli effetti personali e diverse apparecchiature, ma anche gli zaini degli atleti con le medaglie conquistate. Immediata è arrivata la solidarietà di tutto il movimento, sia a livello nazionale che locale, con l'impegno concreto di risarcire la società almeno dei danni materiali. Ha detto Alessandra Palazzotti, direttore di Special Olympics Italia, nessuno può spegnere il sorriso ai nostri atleti, nessuno potrà togliergli questa esperienza, provvederemo a fargli avere le attrezzature e le medaglie che hanno vinto e strameritato durante i giochi nazionali.